avevo il mulinello amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 2 buongiorno a tutti siamo qui in sponda ovest questa mattina con il grande massimo con il grande massimone che sta pescando a tencara guardate guardate la casa a tencara guardate che spettacolo sta pescando in basso a tencara con una ninfa ed è un bombardamento diciamo allora dici come sta andando la cosa troppo bene troppo bene pesci bellissimi a parte il cappello sta andando tutto bene allora guardate guardate questo è sanpei guardate 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 la canna come lavora guardate che spettacolo guardate che roba bus incredibili i bus incredibili del big 2 guardate che roba guardate che bassettone che ha preso grande il grande massimo marchi qui sulle live del big 2 è un onore avervi qui guardate è un onore per noi pescare qua tiralo su la tencara bene qui al big fish oggi guardate poi c'è anche quell'altro dietro che dopo ve lo faccio vedere ma anche anche no guardate guardate che bassettoni fantastico fantastico andiamo a rilascio andiamo a rilascio tac eccolo qui che torna a casa grandissimo bene allora ci faccia vedere l'esca si può vedere l'esca si tanto che si tratta comunque sono queste l'ha mangiata si l'abbiamo lasciato in bocca così allora guardate sono ovetti in ciniglia molto zigorgolati senza segnalatore senza niente al tocco praticamente a toccio e il bass non resiste il bass non resiste in un posto incantevole d'altronde si sta bene anche senza pescare sei circondato da gente un po spaventosa perché quello l'ha all'orizzonte non dico chi è per per ovvi motivi ma è meglio è meglio non dirlo e poi mi giro e questo è il problema non diciamo niente non diciamo niente lei non dica niente lei non è qui lei non è mai stato qui e non che non lo venga a sapere salutiamo fabione in diretta salutiamo ciao fabio ciao fabio torna presto noi ti aspettiamo e ti vogliamo bene bene ragazzi qui dal big 2 tutto noi vi aspettiamo tutti i giorni dalle 8 al tramonto per delle pescate esclusivamente a mosca e a spinning e a ten cara no kill veramente spaventoso lei cosa ne pensa ottima idea ottima idea allora ricordiamo facciamo la marchetta anche del 14 allora il 14 luglio venerdì sera super notturna super notturna qui al big 2 pesca i predatori di notte una roba incredibile una roba che facciamo solo noi a bologna perché siamo spaventosi con grigliatona alle 20 per tutti gli intervenuti e vi daremo la possibilità di pescare questi magnifici pesci questi magnifici predatori bus striped bus persici reali luci anche di notte fino a mezzanotte e anche oltre perché tanto io sono così ubriaco che a mezzanotte probabilmente non riuscirò a andare a casa quindi se uno vuole trattenersi un po di più non c'è problema allora ragazzi qui dal big 2 tutto a voi studio ciao